L'arbitro con la moglie ci abbiamo! L'arbitro con la moglie! Registra, registra, tu parti. Allora, questa è eccezionale, perché voi sapete... Le battute... eccola qua, allora. Le battute si possono sfrecare, perché voi sapete... Effettamente! No, perché mi immagino che uno quando va allo stadio... Cornuto! Allora, adesso, sei in diretta... Io non ho fatto niente! Mito sfatato! Ecco, com'è vivere con un arbitro? Dura, molto dura. Perché è calabrese, un arbitro calabrese. Allora, siamo contenti di aver sfatato in diretta il fatto che l'arbitro non è... Cornuto! Ecco, perfetto! Ottimo, grazie! Non posso dire altrettanto, non lo so, non ci mette la mano sul cuore! No, no, altrettanto, altrettanto!